Il cristallo della faglia 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 Portato nella gabbia di Rune Impossibile uscirne senza la chiave Chi lo ha preso? Chi ha preso Arok? Succubi Regina Scilla Più potenti di quanto pensassi Il male avanza Tu sei l'unica speranza Di mantenere la fiamma accesa La faglia è la faglia Un'altra faglia La faglia è la faglia La faglia è la faglia Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Grazie a tutti. 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 Non ho abbastanza spazio. No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, aspetta, posso aiutarti. Schilla lo ha portato alle grotte del mare, al porto. Ti mostrerò come arrivarci. Schilla mi sta punendo e non mi permetterà più di entrare nei bagni. Se qualcun altro trova il mio specchio, lo terrà per sé, lo so. Trovalo e ti mostrerò la strada. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho abbastanza spazio. Non ho abbastanza spazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho abbastanza spazio. Grazie a tutti. Non ho abbastanza spazio. Non ho abbastanza spazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ho abbastanza spazio. Grazie a tutti. 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 tastazioni, Il mio specchio. Sei davvero abile. Segui questo. e arriverai nella stanza del trono. Da lì troverai la strada per il porto. Grazie a tutti